Il primo premio della serata, altro non è che passare un'intera giornata insieme a uno dei tanti disgraziati che va alla messa della Haritas. Insomma, questa è una serata di beneficenza per la Haritas, però la sua moglie che l'aveva organizzata e sentiva male si chiamano mia mamma a fare la madrina. Mi metto, mi sdraio un pochino e lui mi guarda. E io mi sento una modella di Gauguin. Ma la presentazione fa la pebellina? Dino la serata? Ho capito, ma non c'è mia bisogno di odia ora, perché a quelli che verranno lo sapranno. Guarda che sta troppo sticchio, fammi bene sai, bisogna ghiacchierare nella vita. Eh, ma il silenzio, dove il suono non può essere, nella fredda tomba, nel fondo del mare, nel deserto grande, dove vita non v'è. Tu le dai le vocali, le dice che c'è la premiazione dei quadri, se le poesie... Se le dico di questa roba non vengono di sicuro. E si canteranno le canzoni, si racconteranno le varzellette, io sono bravo a raccontare le varzellette. C'è uno che non c'ha nulla da mangiare si chi mangia l'erba, ve la sa? No, queste cose non se ne raccontano. Perché non è che è una serata ufficiale, seria, pebellino, bellina? Passa un signore ricco, gli dice, che la fa lei? Oh, venga, la invito io. Ma io c'ho anche la mia moglie a casa, porti anche lei, ma io c'ho anche tre figlioli, porti anche loro, c'è casa mia, c'ho l'erba così, ti chiede. Non lo spieghiamo dueci volte, tu l'ha accettato di venire a fare, ma te l'ha fatta di venire. Io l'ho accettato perché non ci si vede più da un sacco di tempo, si ha detto si faceva un po' di giri, invece non si è fatto più nulla. Perché noi due si è suonato insieme, noi saremmo un duo, noi si è suonato tanto, e si era il pavoloso duo Bruno e Franchino, che a mani tinge e roger per da stelle di Pianni e Mugnone. Però qualche canzone si farà, io sono bravo a cantare le anzoni francesi e napoletane, sono bravo a quelle, fammele fare, se no che tu mi invitavi a fare. Franchino, forza! E insomma, comunque venite, almeno ho passato una serata bella, Bruno e Franchino, Bruno per carità. Non tu capisci neanche se ti si piglia per il culo.